Il fiume Tanagro è ancora a rischio esondazione. Sono anni che questa problematica colpisce il ballo di Diano che è attraversato interamente da questo importante fiume e il rischio di esondare è una costante. Rischio dovuto ai mancati interventi di manutenzione nel corso d'acqua per via di una situazione burocratica complessa attorno a questa operazione di pulizia e a farne le spese e tutto il territorio. E ad intervenire allarmato questa volta è stato il sindaco di Sassano e presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, che tramite i social ha manifestato tutta la sua rabbia per questa situazione di disagio. Numerose segnalazioni di fide e incontri per la pulizia di un corso d'acqua senza alcuna risposta concreta, tale inerzia determina una continua minaccia di esondazione ogni qualvolta ci sono delle piogge un po' più abbondanti. I comuni non possono agire in quanto la norma è particolarmente complessa e coinvolge numerosi enti e la dimostrazione concreta di una burocratica che sui temi ambientali non determina tutela e valorizzazione, ma avversione e abbandono. Bisogna al più presto mettere fine alla stagione dei doppi, tripli, quadrupli, infiniti pareri che provocano un continuo e costante scarica barile, mettendo i sindaci con le spalle al muro. E poi continua il suo appello affidandosi al prefetto, citando l'intervento effettuato lungo il tratto di Tanagro, che scorre sotto una strada provinciale nei pressi di Sala Consilina. L'ultima pulizia di questo tratto di fiume riuscimo a farla qualche anno fa grazie all'intervento del prefetto, che convocò d'urgenza una conferenza di servizi con tutti gli enti responsabili. Anche in questo caso ci siamo rivolti al prefetto, al quale abbiamo rappresentato la condizione di impotenza, di criticità e di disinteresse da parte di chi avrebbe il compito e la responsabilità di intervenire o quantomeno di intraprendere un'azione concreta. Pellegrino denuncia una situazione critica che è sotto gli occhi di tutti e che si spera giunga ad una soluzione, mettendo fine al disinteresse degli enti predisposti ad intervenire.